Il Liceo Internazionale Quadriennale è un liceo unico in Toscana, progettato per gli studenti, con un percorso formativo di ispirazione anglosassone che li prepara ad accedere alle migliori università italiane e internazionali. Nel nostro liceo si consegue la maturità scientifica o linguistica in quattro anni, grazie a una metodologia didattica innovativa che coinvolge i ragazzi nella costruzione del proprio futuro. Liceo Internazionale Quadriennale di Lucca, in un ambiente dinamico, stimolante, controllato e sicuro, i docenti sono al servizio dei ragazzi, non dei programmi. Liceo Internazionale Quadriennale, il futuro inizia da qui. Grazie a tutti.